Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick, ragazzi ben arrivati su Occupy the Mars, the game Gioco raga uscito dall'incirca un mesetto e mezzo ad accesso anticipato Se può interessarvi ragazzi trovate in descrizione un link che vi permette di comprare questo gioco scontato E in descrizione trovate anche i miei canali social, quali ad esempio TikTok, Telegram, Twitch e quant'altro Ultima cosa ragazzi se volete potete iscrivervi al mio canale YouTube Attivate la campanellina se volete ricevere una notifica, ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale Se non ricevete le notifiche allora seguitemi su Telegram che lì le notifiche arrivano Quindi ragazzi come dice il nome stesso, in questo gioco dobbiamo praticamente andare a colonizzare Marte Allora il gioco non mi ha ancora fatto sistemare niente per quanto riguarda le impostazioni grafiche e impostazioni audio Quindi ancora queste cose me le devo sistemare La versione ancora come potete notare è la 0.1.12 quindi il gioco non è completo Perché i giochi di solito sono completi quando la versione è 1.1. Comunque, sono giovane o vecchio? Sono abbastanza giovane ma la cavo dai Volto, quindi si può personalizzare il personaggio e la miseria E io beh, di natura so così, no? O così In me preferivo quasi così, ma in me so più così Però non mi piace, dai, ancora qualcosa davanti ce l'ho Eeeh, una volta Vabbè facciamo così, dai, non mi assomiglia ma va bene, dai Avanti dai Favamo così Capelli blu, cos'è qua? Castagni, ancora ancora Colore occhi, vabbè quelli ce li ho marroni Un po' mi assomiglia, un po' no Vabbè tuta spaziale, cos'è? SpaceX Sì, magari parte qua Era una volta, occupi Mars Oppure, ovviamente non ci sarà la NASA perché sennò quelli si incavolano Ah, però ci stanno le bandiere, potrei quindi mettere tipo bandiera italiana Se la trovo qua Metta la bandiera italiana Colore base della tuta bianca, colore seconda tuta Aspetta ne so io, colore attuale Non ci sto a capire niente Ah, ok Mi piace il giallino Ah, si può scegliere Oh, nera è bellissima Però aspetta, mi hai cancellato il marchio qua Cioè la bandiera Bellissima, mi piace un botto Con un filo di giallo Bellissima Il casco E appunto, questo è proprio Questo è proprio SpaceX, mi pare, no? Accetta Allora, ok Ma che mi sono fatto il personaggio Vado un attimino ragazzi a togliere la musica Perché non si sa mai Metti che ci accopi Rai, ti rompe le balle quello Purtroppo Allora, io ovviamente giochi in 4K Sperando che il mio PC non crepa E a diaverità il gioco non è ben ottimizzato Perché voglio dire Sto giocando in 4K Va bene che la mia scheda video è vecchiotta Però era il top di gamma ai tempi Però già con qualità media Faccio 40fps Quindi non è ottimizzato Il gioco ragazzi È single player Questo gioco Non c'è il multiplayer E a quanto pare Non c'è neanche il DLSS Non c'è niente Per quanto riguarda Per migliorare un po' le prestazioni Per chi c'ha una Scheda video Un'invidia Ma non c'è neanche l'FS Come si chiama FSR Lì non mi ricordo Quello di AMD Insomma avete capito Non c'è manco quello Se provo a mettere la qualità Tutta su buona Faccio sempre 40fps Quindi proprio È così che deve andare Va E allora mettiamo buona Come qualità Allora andiamo a provarla Via partita Ah no C'è il multigiocatore Ah Io non l'avevo Cioè su Steam Non c'era scritto Ma qui a quanto pare C'è il coop online Ah In costruzione Manca Per ora Ok Campagna Partita libere Tutorial Io direi che Ci facciamo il tutorial Per forza Non ci capisco un cavolo E se vedo magari Ragazzi che vi piace Può essere che ci faccio Una serie Come sapete ultimamente Ho provato un mucchio di giochi E poi alla fine Non li ho continuati Perché a dire la verità Mi prendono così così Ma anche a voi Vi prendono così così Quindi insomma Vediamo Se vedo che vi piace Se vedo che piace anche a me Se vedo che Se vedo che comunque È pur sempre In accesso anticipato Quindi non è il gioco completo Quindi vediamo cosa si può fare Perché magari siamo limitati Magari non possiamo fare tante cose Quindi insomma Vediamo com'è Se è carino Si va avanti Io vi ricordo Se vi interessa Lo potete comprare Scontato C'è il link in descrizione Scontato su Instant Gaming A circa 18 euro Mi pare All'incirca Quindi va bene Comunque Inizia Vediamo un po' Come va adesso Ok Allora ok Imparerai come muoverti Su Marte Va bene Ok allora Ok abbiamo la torcia Intanto vediamo Giù a sinistra Fonte di ossigeno Tuta Altitudine 711 credometri Ossigeno tuta Quasi finito Ossigeno esterno C'è Salute C'è Stamina C'è Fame Idratazione Quindi dobbiamo anche mangiare e bere In alto Battito di cuore Temperatura esterna Ovviamente Penso sia quella Giovedì Sol 1 Quindi giorno 1 su Marte Ore 8 del mattino Bello Mi piace Mi ricorda Uno dei miei film preferiti The Martian Sopravvissuto The Martian Mi ricorda Mi pare proprio ispirato quasi A Sopravvissuto The Martian Ok Peccato L'ottimizzazione Delle prestazioni Fa schifo Mi fa 30 fps Purtroppo Va bene che io c'ho una scheda video Che spero di cambiarla Prima o poi Ok Ci provo signorina Va bene insomma Mi stai insegnando Le cose basilari A covaccia Di salta Ah miseria Ok giustamente Su Marte c'è una Ok Su Marte ovviamente Ci sta meno Come dire Gravità Oh Cos'è Ok Mi ricorda Coso questo Come si chiama Mi ricorda Fallout Inventario Ok Nell'inventario trovo Quello che raccolgo Vabbè certo Non è che sono scemo Capisco da solo Messaggi Va bene Albero tecnologico Sbloccare nuove cose Va bene Progetti Ok 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 Conoscenze Ok Ah ci sono anche I robot Oh Questo sicuramente Per il multiplayer Presumo Che non possiamo Gestire il robot Ah radar Ok Va bene Ho capito Inventario E messaggi Albero Per sbloccare I progetti Poi i progetti Per costruire cose nuove Le conoscenze Di quello che impariamo Su Marte Gestiamo I nostri robot E il radar Per capire L'ambiente Attorno a noi Vabbè Ha già capito Mo Ah visuale In terza persona Ok Fatto Ora Era ti ringrazia Ah abbiamo già finito Ah ok Vabbè Vabbè Questa era Basilare proprio Vabbè Questa era Impara a muoverti Vabbè Sì Ma quello È chiaro Ma io non lo so Sinceramente Ragazzi C'avrei voglia Non lo so C'avrei quasi voglia Di avviare direttamente La partita Più che il tutorial O facciamo campagna Vabbè Sì Dai Andiamo Quanto sarà complicato Sto gioco Che devo farmi Tutto il tutorial Su Eh Il tutorial è bello Però Però mi pare Mi sta insegnando Proprio le cose Neanche avessi Comprato il computer Ora E fossi nato ieri Vabbè Voglio dire Qualcosina Capisco No Ancora ancora Quindi Penso che c'è Vabbè Ci moriremo Vai Ho capito Ci moriamo Vabbè Ma tanto Si ricomincia Da cavo Che se ne frega Se ci muoio Tanto muore lui Mica io Inizia vai Cos'è Com'è lo sblocco Non lo so Rimango incastrato E muoio Qual è il problema Campagna Già che c'è la campagna È interessante Comunque Pyramid Game Presenta Che poi comunque Il gioco è fatto Con Unity E qui magari Qualcuno dirà Nick Caspita Peccato Che il gioco è fatto Con Unity Un Real Engine 5 Grafica Spettacolare Sarebbe stata Vero Sicuramente Per secoli Dopo centinaia di anni E molteplici tentativi Di colonizzazione Questa piccola missione Con equipaggio Potrebbe finalmente Raggiungere L'impossibile Rendere il pianeta rosso Un posto per noi In cui vivere Rendere l'umanità Una specie Multiplanetaria E multidannefica Perché rompiamo la terra Non rompiamo Marte E aprire Non si sa cosa Vabbè Storia Civiltà Ok Base Alpha Valles Marina Oh l'audio Ho tolto la musica E' proprio Ispirati a Space X Quello è Come si chiama Non mi ricordo Eh si Stanno progettando La musica Io ho tolto Sicuramente qui Era pieno di musica Non si sente Non si sente niente E questo è proprio Space X Perché come si chiamano Caspita Dice che può Portare Cento persone Questo Questo Ma non mi sto ricordando Come si chiama Lo stanno testando Che ultimamente Ultimamente Gli sta da un po' Di problemi Comunque ho sentito E ora non mi sto ricordando Come si chiama Però insomma Sono ispirati a Space X Ispirati alla realtà Tutto ciò Prestazioni del gioco Soprattutto quando Il razzo C'ha i motori accesi Le fiamme Mamma mia Fanno crollare Le prestazioni E non mi sto ricordando Come si chiama questo Ma so che può Trasportare fino a Cento persone All'incirca Va bene Eccoci qua Salute Informazione Che devo fare Ok Quindi intelligenza Artificiale Mi dà il benvenuto Poi Ok La tuta Non è Progettata Per temperature Notturne Ma questa Praticamente La pressione Il livello Della pressione Ah io pensavo Che era il livello L'altezza Dal mare Effettivamente Non è Mica c'è Il mare Su Marte Quindi questa La pressione Ok Ora e giorno Giustamente Mica c'è il mare Su Marte I punti Disponibili Per l'avanzamento Tecnologico Ok Quindi il tutorial C'è pure qui Non è che non c'è Cos'è sto 9999999 Elettricità E ossigeno Che caspita Fonte Ossigeno Tuta Ma va E oso pure io Ah qui è l'altitudine C'è alla fine L'altitudine 227 metri Ok E questa è la pressione Non so De che Vabbè Ok Va bene Interessante È molto Stato salute Ok Stamina So cos'è Si so cos'è La stamina La fame So cos'è Anche quella L'idratazione Lo so che cos'è È qua La bottiglia C'è Tutto a posto Ok 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 In caso Squilla pure Va bene Ok A destra Eventi A destra Se c'è Vento Fuoco Elettricità Caldo Freddo Capito Missione Ok Ok Ah c'è pure Salta No c'era Informazioni utili Ah lì Ok Non mica l'avevo visto Ok Cos'è questo Livello di carica Della tuta Che senso Messaggio di prova You should pay attention To whether something Will be missing During construction This is where useful Tips might pop up Ammazza E questo che è Such a sign Helps you find Your way on mars Ok Ma quando è che si gioca Insomma Ok 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 Muovi il mouse Per guardarti intorno Premi E sullo schermo Ma l'addestramento L'ho già fatto Mi dico Lo devo fare per forza L'addestramento Sei seria? Devo fare l'addestramento Obbligatorio? Davvero? Seria? Devo fare tutto il tutorial Prima che posso fare la campagna? Seriamente? Cioè Davvero? E questo l'ho già fatto Ah Praticamente mi stanno obbligando Non l'ho già fatto quello Ma l'ho già fatto Ma l'ho già fatto Ma che cazzo Ma scusi E quindi praticamente Dice Bello del zio Fate il tutorial Se no ti attacchi al ca Accidente Eh raga Oh Questi ce tengono Anche se La tua salute è virtuale Tutorial numero due Che devo fare? Vabbè Eh raga E dobbiamo fare il tutorial E va bene E che me la mente ha fatto Tanto Imparo Qualcosa Sega circolare Tieni Arrottame Questo arrottame Ok Ok Beh Diciamo Diciamo che Un po' ho fatto così Cioè vabbè È pur sempre È pur sempre Comunque un alfa Però è poco realistico Ma vabbè Vabbè che tanto Alla fine tutti i giochi Sono così Ah ma chissà Quando è che ci avremo Un gioco dove Effettivamente È come la realtà Che fai le cose Con la sega circolare Che tagli come la realtà Mamma mia Quello che sa ancora Quanto dobbiamo aspettare Per vedere queste cose Vabbè Non ho capito La sega circolare No Sì Come se buttiamo questo Non me l'hai detto Vedi A che serve la G Corre da solo Come si prende Ah col Clic destro del mouse Mi pare che l'ho tolto Ok Che devo fa' Premi Ah Devo costruire Ho capito Prima abbiamo smontato Ora dobbiamo costruire Camera d'equilibrio Rampa E come si ruota Si autoposiziona Si autoposiziona Ok Ah ok Ah ok Bello Giustamente Dice Nicchio Come fai Se non impari Ste cose Basilari Finito Non mi dire Ho già finito Che devo fare Ah no qua Cos'è Cos'è Bombolato d'ossigeno Bottiglia d'acqua Ammazi Di sacco Avvicinati Quindi premi Tasto destro del mouse Per lanciarla Per mollarla Ok Devo premere la E su di essa Ho bevuto Credo Ok 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 Ci ho capito poco Ma Qualcosa l'ho capito Vabbè Vabbè Si beve con la E Vabbè Ok Chi è Salvataggio Meno male Vabbè Raga E il tutorial Sa da fa Però è carino Nuo messaggio Premi tab E dove sto messaggio Conferma Un risultato Non sto a capire Usa l'ascensore Per scendere al livello Si ma Ma che vuol dire No il problema è che Sono rimasto incastrato qua Non riesco a tornare indietro Premi pausa menu Per alzarti Come pause menu Qual è il pause menu Cos'è il tasto pause menu Non lo so Qual è il tasto pause Premi il tasto pause Per alzarti Sarà questo No E' buona Ah il tasto esci Ma porca Ah pensavo che devo fare Tutto il tutorial Oh salve Ammazza Oh bel taglio dei capelli Veramente Eeeh Ah io pensavo che Devo fare più tutorial Guarda Mi sto Stavo impazzito Ma che stavo Oddio LOL Ah quindi siamo dentro L'astronave Quella che sta a costruire SpaceX Devo ancora Dove devo andare Usa Ah livello 0 Devo andare Come si fa Ad andare giù Ad andare su Ah ok Così Conferma un risultato Addestramento positivo Che aspetta vuol dire Oh salve Credo che Mi serve la tua approvazione Posso andarmene All you have to do All you have to do is go this way I have sent on your tablet The place where you should report You should check in with the governor Of this base Wait a minute Ehh One more thing HSE manager wants me to remind you That you can use your tablet To gain info about suit parameters And peripherals You can manage them here Change water and oxygen bottles Incoming message I should check Ah ok Allora un attimo Messaggi Ok Allora Confermo un risultato Addestramento positivo Ho ricevuto informazioni Sull'addestramento completato Non esitare a contattarmi Scendi con l'ascensore Ma quello l'ho già fatto Sono già sceso Altri messaggi Niente più Missioni Prendi parte Ai corsi di addestramento virtuali Ah quindi Devo fare il primo E il secondo Obbligatori Ok Probabilmente Poi per fare qualche cosa Di più avanzato Devo fare gli altri Sicuramente Ok Buono Ok dai Raga E' carino il gioco E' E' in accesso anticipato Però E' carino Cioè che dirvi Bello che è tutto in italiano Mi piace Cioè E so pochi ultimamente I giochi che escono anche in italiano Mi piace Mi piace il fatto Che è fatto in modo realistico Quindi che hanno messo dentro SpaceX Quindi Non è roba di Diciamo Cioè sì C'è un po' di fantascienza Perché ancora Ovviamente L'uomo su Marte Effettivamente Non c'è andato Però Siamo più o meno Lì per lì Sulla realtà Qui no Mi piace un po' tutto Insomma Ovviamente Ci vuole un po' di miglioramento Secondo me Per quanto riguarda Il motore grafico Insomma E Unity E insomma Bisognerebbe Che fanno qualcosa Perché è un po' Scattoso E E magari Mettessero il DLSS O l'FS Come caspita Si chiama quello di FSR Insomma Quello lì di AMD Avete capito No Vabbè comunque Battito di cuore Idratazione fame Stanchezza Qui è dove mi trovo Le coordinate Bombola d'ossigeno D'acqua Batteria della tuta Qui che cosa abbiamo Dei pomodori Ah così possiamo mangiare Dei cavi Tubo acqua e gas E una bombola d'ossigeno Ok Quindi in pratica Siamo come dire Equipaggiati con Cavo elettrico E tubo dell'acqua Quindi facciamo L'idraulico E l'elettricista Faccio qua io Ok Messaggi inventari Ablo tecnologico Botanica di base Frigo Ah si può sbloccare Poi il frigo Elettronica di base Poi trasformatore luce E poi il laboratorio E poi la fiamma ossidrica Si sbloccherà Ok Qui i progetti Per ora non c'è niente Praticamente Conoscenze Strutture Stampante 3D Connettore a 4 vie Questo è tutto quello Che in pratica c'è Nel gioco Parecchia roba Molta Ok Come si esce In modo di qua Vabbè Che devo fare Scendi con l'ascensore Ma il casco Ce l'ho messo Oppure no Ah il casco c'è Come Ok Aha Dobbiamo uscire Si va a sommerte Ma manca un po' di audio Qui eh Nuovo messaggio Però non me lo fa leggere Finchè non arriviamo giù Apriti Come si esce di qua Oh Mi aprite Mi hanno aperto Oh Siamo arrivati su Marte E certo che neanche il tempo di cominciare Temperatura bassa Allora Vediamo un po' Com'è quindi il gioco Ragazzi Da questo punto di vista Graficamente Beh graficamente Non è malaccio Direi Cioè ho visto di meglio Come texture eh Non è proprio Stupenda Avviso temperatura bassa Trova il riparo Orca Cazzozza Non posso stare qui fuori a lungo Mi sta a far Porca miseria C'era un freddo boia fuori Difatti stava cominciando a congelare Stavo cominciando a congelare Caspita Ero lì fuori che Perdevo tempo E Messaggi Che vuoi Parla col governatore Pure il governatore c'è Ma ora com'è la mia situazione Salute il recupero Credo Stava a crepar lì fuori Che sto Governatore Come è nato Sì Ok Allora noi siamo qui Come ingegnere elettrico E lui dice Non mi rompere le balle Se vuoi saperne di più Guarda il tuo tablet Ok Allora praticamente Devo andare a fare La visita medica E poi posso riposare Nella mia stanza Ok Allora ragazzi Però il tempo L'ho finito E il gioco Devo dire ragazzi E' interessante Come si fa Va la partita Allora la chiamo Youtube Ok Salva partita Sicuro No Salvala certo Ok ragazzi Io dico Il gioco E' interessante Mi spiace Solo Che è un po' Scattoso E poi Che Ehm Come dire Ehm Beh insomma Graficamente Poteva essere un po' Meglio Insomma Mi lamento Sulla grafica Poi per la giocabilità Mi sembra tanta roba Insomma No Ma vediamo E' pur sempre un'alfa Quindi chissà Probabilmente Più avanti Sarà dieci volte meglio No Ovviamente E' ancora In accesso anticipato Vi ricordo in descrizione Se può interessarvi Lo potete comprare scontato E Ehm Non lo so Se vedo che vi piace A me interessa il gioco Ma se vedo che piace anche a voi Magari lo continuiamo Ragazzi Vi saluto adesso Ciao Alla prossima Alla prossima